31 maggio sarà un'estate caldissima signori io ve l'avevo detto sono settimane che ve lo dico il bello deve ancora venire e infatti il mercato ancora non è aperto e noi già abbiamo iniziato a sognare da che cominciamo oggi? perché allora io gli scleri li ho esauriti in nottata leggendo ma oggi mi hanno dato altro materiale per venire qui a chiacchierare un po' e la butterò sull'ironia ragazzi la butterò sull'ironia perché se oggi la abbiamo sul serio finisce che mi viene un infarto mentre sto a registrare quindi volevo evitare la prenderò con ironia con ironia perché allora iniziamo iniziamo da 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 una cosa leggera la questione di Luisa Alberto allora Lodito ha detto a quanto pare io ripeto fin quando non arrivano smentiti ufficiali e smettite io prendo per buono ciò che riportano i giornali allora i giornali riportano che Lodito avrebbe detto oggi che Luisa Alberto se vola una via deve fare la sua parte eh che proprio è perché lui ha detto che se può chiude una cosa rinunciando a due lire si può? prendi i soldi chiudiamo sto capitolo e andiamo avanti no preparatevi avremo spero di no ma io temo che avremo giorni di passione riguardo a questa cosa Luisa Alberto ma andiamo avanti dopo dopo aver fatto no questa piccola questo piccola oggi c'è stata ehm una un'intervista su Lazio Style Channel che poi sarebbe bello poterle rivedere anche su Youtube queste cose ma ovviamente non c'è nessuno che se ne occupa e quindi e quindi va bene così eh top sempre la gestione dunque ehm allora c'è stata intervista di Fabiani post post questione Kamada cosa è successo Kamada stava per firmare e poi non è la cosa non è andata e dunque ci sono state diverse ricostruzioni sul perché lui si sia tirato indietro ehm e poi Fabiani ne ha parlato adesso ci arriviamo allora a quanto pare secondo le ricostruzioni Kamada avrebbe chiesto un altro anno di contratto e basta con clausola recissoria valevole dalla prossima stagione in poi molto bassa per potersi eventualmente liberare facilmente e Lazio a questa cosa ha detto no perché poi siamo nella posizione di scegliere noi no giustamente cioè hai perso mezza squadra titolare ehm e noi ci imponiamo perché mica gliela possiamo dare vinta eh noi piuttosto andiamo in serie B ma non gliela diamo vinta mi sembra un ragionamento estremamente intelligente e logico eh quindi va benissimo ehm e quindi Kamada ha detto grazie arrivederci allora io vorrei come adesso e poi ci arriviamo anche con l'intervista di Fabiani ehm si sta si sta cercando di far apparire Kamada e il suo entourage come i figli del male quando in realtà io credo che piuttosto che attaccare etichette su questa o quella persona e piuttosto che puntare il ditino verso questa o quella persona sarebbe importante farsi delle domande e quindi il ditino rivolgerlo verso di sé perché perché Kamada ha voluto firmare per un solo anno la prima volta perché perché Kamada avrebbe voluto firmare per un altro anno e basta perché forse perché non è convinto del progetto Lazio forse perché non si sente tutelato dal progetto Lazio forse perché vive la Lazio come una vetrina per potersi rilanciare andare altrove no ecco queste sono sicuramente secondo me le motivazioni che hanno spento Kamada e il suo entourage a fare certe richieste ora una società di un certo tipo avrebbe non solo accettato in questa condizione le loro condizioni ma si sarebbe messa nella condizione a sua volta di risultare più appetibile agli occhi di Kamada il suo entourage e chiunque altro ci sia nel mondo in grado di arrivare alla Lazio se tu non hai una società interessante con un progetto evidente la gente non ci viene carissimi della società cioè ed è assurdo che lo debba dire Davide il content creator e non ci sia qualcuno che ve lo dica là dentro o che ve lo diciate da soli no? quindi è deprimente è deprimente legge certe cose è deprimente vedere la totale difficoltà nel riconoscere i propri limiti la Lazio non è il Real Madrid e dovremmo dovrebbero prenderne coscienza anche coloro che la Lazio la rappresentano in quanto proprietari e dipendenti non è il Real Madrid sarebbe bello che fosse il Real Madrid ma non lo è è la Lazio società assolutamente rispettabile con una storia altrimenti non staremmo neanche qui a parlare in certi tempi però non è il Real Madrid che non vuol dire che non ha dignità come società ce l'ha ma non è il Real Madrid quindi non ti puoi porre con Kamado chi per lui come se tu fossi Florentino Perez che lo sbatte sul tavolo e dice se fa come dico io perché non sai Real Madrid quindi adesso arriviamo alle dichiarazioni riportate ringrazio le sto prendendo dalla Lazio siamo noi in questo momento e leggo la trascrizione proprio che dicono dunque voglio prendere proprio il punto che più ci interessa ieri è scaduto il tempo per il rinnovo e ci hanno chiesto di riproporre le stesse condizioni io non mi faccio ricattare da nessuno dice Fabiani non accetto estorsioni ho detto la porta è quella puoi anche andare via allora allora io non l'ho vista l'intervista quindi parto dal presupposto però che la trascrizione sia corretta quindi se la trascrizione è corretta ritorniamo a bomba con le domande se allora A non mi sembra non mi sembra un modo estremamente consono di di raccontare un evento onestamente io da una società di un certo tipo non mi aspetto che queste cose rimangano negli uffici in cui si sono svolte allora cioè sono arrivato al punto veramente di rivalutare le dichiarazioni che faceva Tare post certi certi frangetti tipo David Silva perché c'era un po' più di un po' più di no sta cosa io non accetto estorsione cioè siamo abbiamo un direttore sportivo che ha adottato la stessa linea comunicativa del presidente non mi sembra un'ottima cosa se mi è permesso esprimere un'opinione non mi sembra un'ottima cosa cioè io vorrei vorrei qualcuno che potesse ammorbidire quella linea estremamente estremamente dura del presidente a volte no non che l'amplificasse sono dichiarazioni secondo me poco consono è una società quotata in borsa poco consono è una società che punta alle alte alle alte posizioni di classifica ma poi ricatto di cosa quale estorsione ognuno fa i propri interessi adesso Kamada e la sua squadra farcivano i propri interessi cioè della serie facciamoci un altro anno insieme vediamo che piega a prendere sto progetto che ci piace però un altro anno se non ci piace grazie di vederci non mi sembra un discorso così campato in aria rispetto a quella che è la gestione attuale della Lazio cioè io vorrei che lor signori si mettessero al tavolino e prendessero coscienza che la gestione della Lazio di quest'anno è stata discutibile vedere andar via diversi giocatori chiave della società non è un bel messaggio per chi c'è ancora dentro e per chi dovrebbe arrivare il fatto che loro non ne siano apparentemente consapevoli che c'è stato una perdita di prestigio in questi addi ormai imminenti vedasi Luiz Alberto è preoccupante è un pochino preoccupante secondo me quindi quale estorsione ti ha detto che firma ha delle condizioni convenienti per lui non è non è un uno stagista che gli poi fa quello che ti pare è una persona che ha un cartellino e fai e fai quello che vuoi ed esercita la sua libertà di professionista per fare le proprie i propri interessi io non io veramente ragazzi a sto giro avercela con Kamada vuol dire non aver chiaro come funziona il mondo del lavoro perché lui ha fatto i suoi interessi sulla base di io posso dire se io non fossi laziale devo guardare la società da fuori facciamo finta che io non sia della Lazio io sia un giocatore che ti fa Tokyo so che cazzo hanno lì le squadre la squadra è Tokyo arrivo a Roma vedo la Lazio bene bella la Lazio quello che vi pare vedo un progetto del genere io probabilmente neanche avrei firmato il rinnovo io ma neanche avrei paventato la possibilità di firmare il rinnovo con questa società lo dico sinceramente no da Laziale firmerei anche a zero per qualsiasi ruolo ma da non Laziale no da non Laziale no io poi ognuno fa come gli pare però e adesso farlo passare come il traditore della patria cioè ragazzi ma pure troppo buona è stata a mettersi a sede ma parliamoci chiaro ma su ma adesso se sta a rivolta al mondo ma poi soprattutto una società che ha in camada l'unico l'unico in questo momento in prospettiva giocatore che ti potrebbe garantire un mantenimento di un certo tasso tecnico perché Gendo Zivola andrà via Luiz Alberto uno più forte non ci viene non ci viene oggi Lazio e bisogna dirlo a chiare lettere fin quando il progetto non assumerà delle dimensioni un po' più di prospettiva non ci vengono quelli forti poi andrà poi andrà pescata da getta che sta retrocede o da getta cioè tutte non tece vengono non tece vengono e se non lo non lo capiscono loro allora Alasio devi far vedere che è una società con in mente qualcosa con un programma e invece cioè non io io cioè chi viene alla Lazio deve sposare il progetto amare la Lazio ma chi l'ha detto stanno a lavorare Fabiani stanno a lavorare ma deve amare ma deve cosa ma deve cosa chi viene deve giocare deve deve fare la loro su e piegare i sordi l'amore non è non è un requisito necessario per fare il calciatore e buongiorno perché ah oh ma 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 fino a ieri dove stavate perché è una domanda cioè ve le guardate le partite ve le guardate i contesti sportivi l'amore cioè sarebbe piacerebbe a tutti avere 11 giocatori attaccati alla male innamorati del progetto della società e di tutto qua ma non è così il mondo reale non è così eh non tutti sanno ragazzi è l'ottava società in Europa come età media e quindi il progetto sarebbe questo cioè io a me mi sembra veramente a volte di leggere delle cose che ripeto io spero che non siano vere queste cose che sto a legge oggi volevo volevo vedermi volevo vedermi la l'intervista invece io io non poi c'è anche un'altra dichiarazione che neanche leggo perché perché ne la leggo ne la leggo quella sull'età media non ci possono essere le cacciatori che prendono puntini puntini la società io non voglio credere che l'abbia detto non voglio ora ora chiudo chiudo con una con una con una cosa intanto l'ho dito che parla dei close in un'altra intervista che ripeto fin quando non ci sono smentiti io la prendo per buona parlando di quanto close fosse bravo a prendere meno di quanto non prendessero gli altri talmente bravo che quando si è proposto non l'hai neanche calcolato chiusa parentesi chiudiamo con la chicca finale a quanto pare Tudor ha sbroccato così sembrerebbe così riportano le ricostruzioni di queste ore o quantomeno in questo momento a quanto pare io ripeto io non so niente mi baso su quello che leggo a quanto pare ci sarebbe un meeting in corso fra Tudor e la società per valutare la situazione perché non avrebbe preso benissimo proprio l'addio di Kamada e come dargli torto ti ha detto che gliene piace uno uno ti ha detto che gliene piace uno che ti dice vorrei undici Kamada che cosa sta mandando un leggerissimo messaggio se non capisci il leggerissimo messaggio dopo che ti ha detto che vorrebbe undici Kamada te lo deve tatuare te lo deve se lo deve tatuare qui fai rimanere Kamada che deve fare di più e tu un giocatore ti ha chiesto e tu lo fai andare via perché non ti fai ricattare non ti fai mica ricattare ma se può ma se può sta così al 31 maggio ma se ma se può sta così al 31 maggio domanda si può no secondo me non si può iniziare così ora se Tudor lascia se Tudor lascia fa bene lo posso dire fa bene io se fossi Tudor me ne andrei oggi io se fossi Tudor e non fossi laziale me ne andrei oggi perché non c'è un progetto a quanto o quanto meno non si vede sto progetto 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 età media qual è il progetto qual è il progetto progetto no ricatti qual è il progetto io io non e se va via Tudor ragazzi allora fermo restando che al netto di quello che è stato il suo rendimento in campionato io io non ho un amore particolare per Tudor a livello a livello proprio di comportamento perché alcune cose non mi sono piaciute granché come vi ho raccontato però come dissi ai tempi di Sarri se va via Tudor voglio veramente vedere cosa succede poi eh perché se va via Tudor ragazzi si parte secondo me in via ufficiale col progetto di dimensionamento proprio a tutti a tutti i livelli eh io già lo so chi arriva se va via Tudor io già lo so io già lo so e e e no no non lo nomino neanche perché tanto già sapete a chi mi riferisco non lo nomino neanche perché non voglio contribuire al karma ma diciamo che è reduce è reduce da una finale persa ecco chi sarà io penso che sia lui il post Tudor eventualmente e non no preferirei di no grazie eh però vediamo vediamo che cosa succede ad ogni modo ragazzi credo che ci rivedremo spesso in questi giorni io volevo fare io volevo fare un video di bilancio di fine anno non lo riesco a fare perché ogni giorno c'è qualcosa lo farò domani chi lo sa non lo so ragazzi comunque ripeto tutto quello che avete visto in questo video è frutto di ciò che ho letto io non ho io non sono non faccio l'insider ce ne sono già troppi ehm non voglio contribuire ad alimentare alcunché quindi mi baso su quello che leggo che leggete anche voi lo commento insieme quindi non nulla più ehm e sono tutte opinioni assolutamente personali che credo siano anche legittime se non insomma quindi ragazzi questo è sempre forza l'ansia perché quello non ce lo leveranno mai però ecco diciamo che ehm ammetto di essere un pochino preoccupato un pochino un pochino terrorizzato forse non riesco la parola terrorizzato non racchiude effettivamente ciò che provo in queste ore ma ripeto abbiamo abbiamo siamo pronti a tutto ragazzi siamo pronti a tutto e non ci leveranno mai l'amore per questa maglia ragazzi un abbraccio ci vediamo spero spero il più tardi possibile spero che si possa parlare di altro domani parliamo il bilancio della Lazio parliamo del rinnovo dell'Otaro Martinez parliamo del nuovo allenatore del Milan parliamo di 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 Mourinho Orfenerba cioè parliamo di qualsiasi cosa ma non parliamo di queste cose io non ne voglio più parlare e vabbè ciao 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 Grazie a tutti.